E tu cosa aspettavi a cacciarlo fuori? Che si ammazzassero! Comportati bene! Hai un'altra visita, una visita importante. Camilla, ti presento il signor Martínez. No, 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 cosa volete da me stasera? Non è più possibile rimanere in pace qui. Il signor Martínez è il segretario particolare di Su Altezza il Viceré. Il re, come sta? Bene? Oh, beato lui! Su Altezza il Viceré ha cortesemente invitato la nostra compagnia per una recita a palazzo. A palazzo, ci pagano. Camilla! La generosità di Su Altezza è leggendaria in questa colonia. Accomodatevi. Scusate, i miei domestici sono così pigri.